A tutti voi buonasera, bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale. È arrivata questa mattina in Slovacchia la colonna della protezione civile delle Friuli Venezia Giulia che è partita ieri mattina da Palmanova e già nel pomeriggio sono cominciate le operazioni di montaggio per un maxicampo che ospiterà fino a 250 persone in fuga dall'Ucraina. Lorenzo Pausa. È iniziata l'opera della protezione civile in Slovacchia per prestare soccorso alla popolazione ucraina. Il gruppo di 26 volontari e 5 funzionari partiti ieri mattina dall'Abb Nazionale di Palmanova ha raggiunto dopo una giornata di viaggio la località di Mikalovce al confine tra Slovacchia e Ucraina. Lì sono iniziate da subito le operazioni per allestire il centro di smistamento che sarà composto da 30 maxi tende e sarà in grado di ospitare fino a 250 persone. A lavori ultimati e dopo gli opportuni controlli di sicurezza il centro di smistamento verrà poi consegnato alle autorità locali da cui si attenderà il via libera per l'accoglienza dei primi profughi. Una ventina è convogli giunti in Slovacchia tra camion privati, camper e altri mezzi della protezione civile che opera nella circostanza in stretta sinergia tra il dipartimento del Friuli Venezia Giulia e quello nazionale. Una volta trascorsi i primi 10 giorni di operatività nuovi volontari giungeranno in Slovacchia per dare il cambio a quelli attualmente impiegati. Con loro ci sono anche gli addetti della Croce Rossa italiana. Nel frattempo prosegue anche in regione, in prossimità dei valki di Coccao e Fernetti, l'attività di accoglienza e smistamento degli ucraini in fuga dal conflitto. E se servirà siamo pronti ad allestire altre strutture simili, a dirlo il vicepresidente della regione Riccardi, che ci racconta anche l'attesa per la visita a lunedì del presidente del consiglio Draghi in regione. C'è un nuovo fronte che si aprirà o pensate di fermarvi solo in quell'area? No, noi siamo a disposizione del sistema. Se ci chiedessero delle cose da fare, le esamineremmo. Comunque, insomma, il frattempo di Venezia Giulia ha sempre dimostrato la piena e totale disponibilità. Perché ha scelto proprio Palmanova, Draghi? Io a memoria non ho ricordi di presidente del consiglio che sono venuti nella struttura di Palmanova. Siccome la visita è al presidente della conferenza delle regioni, ci sarà anche il capo del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. Io penso che il presidente voglia fare un po' il punto rispetto alle cose che sono state fatte. Probabilmente gli è stato anche raccontato lo sforzo che noi abbiamo fatto. Perché governare il sistema dei farmaci è essere la regione nella quale passa ad oggi almeno la metà delle persone che arrivano scappando da una guerra dall'Ucraina. In più, questa missione che ieri è partita, penso anche che lui voglia vedere direttamente che cosa è caduto, farsi raccontare quello che abbiamo fatto. 30.973, tanti sono i propri ucraini che sono entrati in Italia passando dai confini della nostra regione, dallo scoppio della guerra. Oggi è solo una piccola parte, si è fermata in Friuli Venezia Giulia per l'esattezza 2.317, poco meno del 7%. La maggior parte è entrata dal valico di Fernetti, circa 16.300, altri 12.600, da Tarvisio i rimanenti 2.000 sono invece entrati da Gorizia. Vediamo ora al caro Carburanti con le decisioni che sono state assunte dal governo e le indagini della Guardia di Finanza di Trieste. La riduzione delle accise di 25 centesimi decise ieri dal governo, insieme al calo dell'Ive e al contributo della regione, avvicineranno fra qualche giorno i prezzi dei carburanti eroganti in Friuli Venezia Giulia a quelli praticati in Slovenia. I prezzi finiranno quasi per allinearsi, sarà così meno vantaggioso recarsi oltre confine per fare il pieno. Per il deputato di Forza Italia, Roberto Novelli, quella del governo è una decisione che va nella direzione giusta ma che non risolve alla radice dei problemi. A Trieste intanto la Guardia di Finanza ha avviato indagini sui prezzi dei carburanti per verificare eventuali speculazioni su benzina e gasolio. A ipotizzare le speculazioni è stato il Codacons che sabato scorso ha inviato a 104 procure italiane un esposto chiedendo di indagare per reati di truffa e aggiotaggio in relazione all'aumento del prezzo dei carburanti. Indagini sono state avviate dall'antitraste dalle procure di Roma, Cagliari, Belluno, Prato, Ancona, Perugia e Verona. E la strada invocata dal governo Draghi sul caro carburanti convince la federazione autotrasportatori italiani che ha revocato lo sciopero. Il blocco annunciato per il 4 aprile, questa mattina autotrasportatori in assemblea a Udine con l'annuncio dato dal segretario regionale Giulio Zillio. Il blocco è stato revocato nel senso che le misure servirebbero di più, servirebbero ancora, bisogna lavorare ancora su alcuni aspetti. Parliamo per esempio dei tempi di pagamento, però la dote finanziaria non è irrilevante onestamente. Abbiamo visto nel decreto energia 500 milioni d'euro che vengono stanziati. Intanto la regione conferma il suo impegno e a individuare soluzioni strutturali per i prossimi mesi. La regione può continuare a fare pressione con il governo nazionale affinché siano prese delle decisioni strutturali per venire incontro alla carenza di incentivi che non è ancora sufficiente soprattutto per quanto riguarda il prezzo del gasolio. Dopodiché nel nostro territorio noi soffriamo ovviamente anche la concorrenza dai mercati esteri oltre che i prezzi che in slovenia vengono applicati con regimi molto più calmierati rispetto al nostro. L'impegno da parte nostra è quello di individuare anche delle soluzioni strutturali dal punto di vista economico e che potremo mettere in campo nei prossimi mesi e non prima però, ma la partita principale è sul tavolo europeo. Covid per il quinto giorno consecutivo in regione più di mille nuovi casi in particolare 1179 sono quelli emersi da 10.873 tamponi sono due i decessi registrati nelle ultime 24 ore calano a 5 pazienti in terapia intensiva e a 125 quelli in altri reparti le persone in isolamento tornano a superare quota 20.000 in particolare sono esattamente 20.282 quota giornali bloccati in casa perché positivi. Ancora cuccioli di cane trasportati illegalmente in Italia dall'est Europa forestale e polstrada hanno scoperto delle bestiole in viaggio da più di 6 ore chiuse in un portabagagli. Cuccioli di cane trasportati illegalmente in Italia. Due operazioni distinte condotte da Corpo Forestale Regionale e Polizia Stradale hanno permesso di scoprire cagnolini delle razze più richieste sul mercato provenienti dall'est Europa e entrare in Italia senza la documentazione sanitaria prevista per legge. Nei giorni scorsi è stato fermato dal Nucleo Operativo per Attività di Vigilanza Ambientale in collaborazione con la Polstrada di Udine l'ennesimo furgone che trasportava bulldog francesi e barboncini albico Catoi. Tra questi esemplari alcuni erano cuccioli separati dalla madre prima del periodo previsto dalla norma trasportati per oltre 6 ore in un portabagagli. I responsabili del trasporto sono stati segnalati alla procura. Ieri lungo l'autostrada 4 nel tratto Sistiana a Palmanova una pattuglia della strada Ledigorizza ha sorpreso un'autovettura con targa straniera che procedeva a velocità elevate in direzione Venezia. Dopo un breve inseguimento il veicolo è stato raggiunto e bloccato dagli agenti che hanno notato come all'interno del mezzo si trovassero stipati anche alcuni cuccioli di cane. Emersa la mancanza del passaporto canino in uno dei cani. Al conducente è stata contestata una sanzione pecuniaria di circa 500 euro. Cade davanti alla figlia per 10 metri durante una gita in montagna e successo a Maro in un tratto ripido del sentiero che conduce al Monte Forcello. È stato recuperato dal soccorso alpino e trasportato in elicottero a Udine. A Useacco di Resia i due uomini sono rimasti bloccati in un canale ghiacciato e recuperati con il verricello dall'elicottero dei vigili del fuoco. A Usevera due giovani donne si sono bloccate in un tratto ghiacciato e ripido. Una delle due era scivolata per una decina di metri. I soccorritori le hanno raggiunte a piedi e le hanno poi accompagnate a valle, fortunatamente in Columi. Ha tentato di rubare alcuni snack e bottiglie di alcolici in un supermercato. un supermercato Prixa di Viale Lopardi a Udine una volta scoperta ha provato a scappare aggredendo una cassiera. È una cliente, è finita in manette con l'accusa di rapina impropria, una 22enne scoperta e fermata da una cassiera e da una cliente. Ha anche ferito le due donne colpendole con calci e pugni nel tentativo di liberarsi. Ed è stata arrestata dalla Polizia di Stato. Così come sono stati arrestati dalla Polizia due cittadini rumeni di 45 e 36 anni che vivono a Udine e nella bassa friulana. L'accusa di violenza sessuale nei confronti delle loro ex compagni e devono scontare tre anni e sei mesi di reclusione ciascuno per aver violentato ripetutamente le due donne dopo la fine delle loro relazioni. E sempre gli uomini della questura di Udine hanno rintracciato e arrestato in Romania un latitante 52enne, componente di una banda accusata di una ventina di furti in abitazione nelle province di Trieste e Gorizia. C'è stato un vasto incendio nelle prime ore del pomeriggio sul monte Tayet nel comune di Vito D'Asio sopra lo stabilimento Acqua Pradis. Lì giovedì c'era stato un altro rogo domato in 48 ore. Oggi si è aperto un nuovo fronte anche a causa del forte vento ed è stato immediato l'intervento della protezione civile anche con l'elicottero sul posto anche Dino Marcuzzi, vice sindaco di Vito D'Asio e coordinatore del distretto unico antincendio Valcosa e Val d'Arzino. Un nuovo avvistamento di lupi in Friuli questa volta a Pannellia di Sedegliano nella zona industriale a pochi metri dalla zona industriale l'esemplare è stato fotografato ieri mattina e testimonia come i branchi si stiano avvicinando la pianura e alle città a ricerca di cibo e di territori non insediati da altri branchi solo tre giorni fa altri due lupi erano stati notati a Andrazza di Forni di sopra. A Bordano ha riaperto i battenti la Casa delle Farfalle oggi dopo che la sua attività era stata fortemente limitata dalla pandemia. Un segnale di ripartenza la riapertura della Casa delle Farfalle. Ivana Bellina, il sindaco di Bordano come amministrazione, come salutate a quello che è un evento? Noi siamo felicissimi che la Casa delle Farfalle riapra perché è un nostro fiore all'occhiello la Casa delle Farfalle dà visibilità a tutto il comune a tutto il paese ci sono delle persone che vengono da varie altre città da varie altre nazioni ci sono gli olandesi, ci sono i tedeschi, gli austriaci ungheresi anche quando potevano insomma diciamo che per noi la Casa delle Farfalle è veramente quello che si può dire un fiore all'occhiello per Bordano. Stefano Dalsecco è alla guida della cooperativa Farfalle nella testa quanti esemplari ci sono qua dentro? Quando venite in visita ci sono diverse centinaia di farfalle che volano, insomma 80-100 specie diverse e quasi un migliaio di esemplari quindi ci si viene abbastanza sommersi dalle farfalle. Sì ai domiciliari nel proprio paese se fa parte dell'Unione Europea al posto del carcere in Italia l'ha deciso la Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso di un avvocato di Trieste. I domiciliari possono essere scontati nel proprio paese di origine purché nella Unione Europea se non si dispone di una residenza in Italia. Lo ha stabilito una recente sentenza della Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso dell'avvocato triestino Giovanna Augusta De Manzano che chiedeva che la misura cautelare fosse scontata da un cittadino sloveno accusato di immigrazione clandestina nel proprio paese non avendo un luogo dove risiedere in Italia. L'uomo era finito in carcere sia il GIP sia il Tribunale del Riesame avevano rigettato l'appello dell'avvocato De Manzano. La Corte però ha annullato il provvedimento riviando per un nuovo giudizio al Tribunale di Trieste. Sono molto soddisfatta della decisione che ha assunto la Corte di Cassazione e che si è espressa appunto favorevolmente circa la possibilità di eseguire gli arresti domiciliari in un altro Stato dell'Unione Europea favorendo in questo modo chi non ha un domicilio in Italia. Radona 2 a 1 per il Napoli oggi contro l'Udinese che era nata in vantaggio nel primo tempo grazie alla rete di De Lofeu poi doppietta di Osimen rosso nel finale a Pablo Marie e anche un dubbio rigore che reclama l'Udinese. Ma è mancato ma probabilmente e poi ne devo parlare con i ragazzi all'inizio settimana andare un po' fuori cioè essere più ancora più coraggiosi i primi dieci minuti cioè la loro a loro arrembaggio iniziale dovevamo rispondere con più rabbia e non con gestione tattica perché è quella che ci ha fatto la differenza al primo tempo. Abbiamo fatto tutto giusto cioè non è che sto dicendo che abbiamo sbagliato qualcosa a livello tattico è fatto con invece che il 110% il 108% poi episodio due episodi loro sono stati bravi a capitalizzare mi ha dato il segnale di una squadra che si vuole salvare prima dalle partite a recuperare il segnale di una squadra che in dieci contro Napoli manca poco pareggia perché non mi è stata fatta né domanda né da Dazon né da voi qua sul rigore di Soppi con i rigori si pareggia le partite poi può darsi che ci fosse non ci fosse non so evidentemente non hanno giudicato ma non ho visto una squadra che si arrende perché se Soppi in dieci arriva in area di rigore avversaria vuol dire che una squadra non sta gestendo quindi non stavo contestando la decisione stavo dicendo che l'atteggiamento anche in dieci era per provare a guantare il pareggio fermiamo qui grazie per aver seguito il nostro telegiornale arrivederci